sì 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 quanto me la sono vissuta sta partita quanto 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 l'ho sentita è così anche per voi o sono solo io sono stato l'unico che me la sono vissuta è proprio sta partita qui sono qui a dirvi che fantastica giocata bene qui e là non è questo il punto non è questo il punto è che quanto era importante quanto era importante questa questa è diversa da quella con la cremonese è differente ci sono delle cose in comune ma per quello che è venuto fuori è differente è differente perché con la cremonese abbiamo abbassato i toni dall'inizio e siamo arrivati fuori nel finale l'ultima mezz'ora qui io pensavo di non vincerla cioè non perché ma neanche quell'altra pensava di vincerla però qui mi sembra che ne avesse di più l'udinese nel finale a livello fisico atletico poi hai dato l'ammazzata l'hai ammazzata ma quel gol lì arriva in un momento in cui loro stanno ancora bene fisicamente e ci credono di portare a casa dei punti in questa partita qua ci stavano credendo davvero ci stavano credendo tre mostra la maglia di vialli la stessa maglia che ho addosso anche io cazzarola scaricate numero 10 trovate il link qui sotto in descrizione avanti che poi usciranno negli articoli che andrò a scrivere e anche un post partita quello di juventus monza a fine gennaio e ragazzi questa era era troppo importante da vincere sta partita troppo importante troppo importante infatti mi veniva il nervoso vedere che sul finale avevamo sempre meno energie sempre meno energie porca vacca e adesso ci mettiamo qui comodi comodi ad aspettare a guardare vediamo vediamo quello che succede vediamo quello che succede domani perché poi si gioca si gioca uno scontro diretto è si gioca uno scontro diretto dovesse mai allinearsi i pianeti si apre una stagione in questo momento io non ci credo non ci credo non ci posso credere però adesso sicuramente più divertente 8 di fila 8 di fila 8 vittorie di fila 8 clean sheet di fila in questa partita in questa partita nel primo tempo abbiamo avuto di maria che giocava da solo praticamente perché ken oggi è stato freddo come un ghiacciolo nel deserto che si scioglieva di maria ha dato tre palloni uno dietro l'altro e uno non l'ha capito ha tirato di sinistro a giro in ritardo perché è arrivato dopo e uno la controbalza sbagliato e l'ha buttato fuori l'altro altro splendido pallone di maria parata da silvestri l'altro occasione del primo tempo quella di rugani sul sull'assist su punizione di di maria iniziavano essere dei conteggi di palle gol importanti se con la cremonese avevo detto che probabilmente la vittoria non era meritata oggi mi sento di dire di sì oggi secondo me la vittoria è meritata semplicemente il gol non arrivava le abbiamo sbagliate troppi abbiamo sbagliato troppi gol e dopo diventava il solito conteggio delle occasioni sai quando poi queste partite non le vinci dice però lì è però là è però su è però giù diventava complicato molto complicato e nel secondo tempo altre occasioni comunque ne hai avute c'è quella di rabbio sulla linea c'è quella di kostic che che tira in porta di piatto invece che metterla a rimorchio o provare a tirare in un'altra maniera perché se tiri di piatto col portiere in uscita per forza di cose la prende lui ad alzarla almeno perché sennò ti copre quello specchio di porta lì la juve ne ha fatte avute delle occasioni adesso guardo un attimo juve ha avuto dieci tiri dieci tiri dovrebbe aver avuto la juve ma questo lo riguarderemo lo guarderemo nel 14 tiri contro 11 dell'udinese ma l'expected goal della juve è di due quello dell'udinese 0 31 che ha avuto due occasioni nel primo tempo e poi nel secondo tempo mi dà semplicemente quella sensazione di avere ancora energie e noi no e noi no perché davvero tanti break a centrocampo tante volte nei duelli uno contro uno mi sembrava che la vincessero loro che la prendessero loro prima di noi e poi i cambi poi i cambi che hanno cambiato tutto hanno cambiato tutto di maria purtroppo ancora non abbiamo capito un problemino al polpaccio speriamo roba da ridere speriamo un crampo robe del genere però di maria la differenza te l'ha fatta stasera di maria la differenza te l'ha fatta non sei mai riuscito a buttare dentro le palle imbucate da di maria e poi è entrato federico chiesa che ha toccato pochi palloni perché in quella zona di campo mi sembra sempre troppo fuori dal gioco per quello che chiede allegri agli esterni al 352 però poi paredes c'è da dirlo stavolta c'è da dirlo da un pallone splendido a federico chiesa splendido bellissimo e federico chiesa mette un cioccolatino un cioccolatino per danilo un cioccolatino non puoi sbagliarlo è il pallone perfetto il pallone che tutti si sognano è il pallone che risolve la partita il pallone che decide la partita è il pallone del gol del vantaggio l'85esimo segnato dal capitano della juventus segnato dal capitano della juventus nella giornata in cui lo stadio pieno post mondiale si trova per salutare un altro capitano storico un altro capitano storico io non posso non pensare che ci sia qualcosa non so se sacro profano una volontà un destino lo so chiamatelo come volete è un caso è un caso che in questa giornata segni il gol della vittoria il capitano della juventus magari un caso eh danilo così era un anno che non segnava un anno e oggi vi dicevo forse il giocatore che più di tutti va a incarnare lo spirito di vialli nella rosa della juve è federico chiesa gol del capitano su assiti federico chiesa boh ragazzi a me non piace perché mi piace sempre più analizzare essere concreto cercare di di dire le cose un po più terra terra però poi di fronte a a queste cose qui non posso fare altro che che dire che mi vengano i brividi vengono i brividi e ogni tanto penso che magari c'è qualcosa di più grande un disegno un po più grande ragazzi era importante non so se state vedendo anche il mio modo di parlare ripeto non parlatemi di scudetto oggi non parlatemi assolutamente di scudetto non è questo il discorso però però dopo otto partite vinte di fila senza mai prendere gol posso fare altro che essere qui a dire adesso ragioniamo adesso la classifica ha un senso non a inizio anno no a inizio anno non aveva senso adesso ha un senso e vedere anche allegri che adesso cazzo ci crede entra nelle partite sul finale si incassa questo io voglio vedere io voglio io voglio vedere crederci cazzo lottare fino all'ultimo secondo l'ultimo bricio di energia poi se si perde perché sono più bravi gli altri va bene e però non come questo inizio anno che andava bene tutto sembrava andare bene tutto no quella roba lì no perché non sei la juventus poi perdi non vinci vinca gli altri giochi male quello un discorso a parte però tu tutto quello che puoi fare lo devi fare che quello che vi dicevo perché mi dà fastidio che paredes non insegua l'avversario certo paredes è più lento di chiesa certo paredes probabilmente non avrebbe mai preso ma tu non è sufficiente non è sufficiente ci guardi dopo tu intanto fallo io chiedo solo questo perché poi si può essere forti scarsi la squadra può essere più forte la squadra può essere più scarsa però io me lo ricordo è lo ricordo quando inizio anno si diceva ma la juventus non c'ha la rosa e io sempre detto ma come facciamo a dire che non c'ha la rosa ma noi ci rendiamo conto che stiamo facendo le formazioni titolari più scarse della gente che abbiamo in panchina perché quelli che vengono su che magari non hanno i 90 minuti le gambe hanno degli impatti incredibili nelle gare e poi si può dire se la juve è fortunata a vincere negli ultimi minuti prima diceva in serie la squadra che segna di più dopo l'ottantacinquesimo ha segnato sei gol dopo l'ottantacinquesimo certo ma ci rendiamo conto del valore qualitativo della rosa della juventus della panchina lunga che ha la juventus e dei giocatori che vengono inseriti a partita in corso dalla juventus ci rendiamo conto di questa cosa perché poi è ovvio inizia a metterla in fila dici figa come fa la juventus a essere lì seconda in questo momento a quattro punti dalla prima che ha un'altra partita da giocare con ovviamente squadra che la possa recuperare con nelle ultime otto partite che ne ha vinte otto cos'è cinque le ha vinte per una zero e magari le ha vinte una zero giocando male gli ultimi minuti sì è un insieme di tutte le cose perché questa squadra volenti o nolenti ha una rosa importante molto importante e ci sono dei giocatori che in questo momento non hanno ancora dato l'impatto che dovevano perché non sono in forma perché hanno giocato poco perché non ha mai giocato perché erano infortunati ma oggi possiamo dire che ufficialmente è tornato federico chiesa perché non è primo assist ne aveva fatto anche una milic ma questo è molto importante davvero decisivo determinante impattante pesante e che cazzo di serata e che cazzo di serata è una partita che è diventata fin troppo tosta fin troppo complicata e nella quale veramente avevo perso ogni speranza e poi poi ci sono quei secondi irrazionali che ti fanno anche venire un po la pelle d'oca perché perché sì in una giornata del genere ti fa venire la pelle d'oca ci vediamo domani per tutte le analisi del caso e più tardi con una breve clip sull'esultanza al gol di Danilone